Cunningham Beh, ha qualche trascorso e allora ha... Ehi, vecchio zio Fonsi Ehi, come te la passi, Spadino? Spadino, questo è Ricky, questo è Spadino Lui è uno dei fratelli di John Sì, tua sorella ha un corpo... Ha solo 12 anni Sì, ma è il corpo di una ragazza di 13 Bene, adesso mangiamo qualcosa Ci vediamo, Cunningham Ci vediamo, Cunningham Spadino La mia piccola esce domani sera con uno Spadino